Eccoci, eccoci, allora oggi parliamo di questo fantastico strumento che è la silhouette e di una funzione particolare. Allora grazie a questo tappetino che si chiama Pixcan noi possiamo fare diverse operazioni molto utili al fine delle creazioni delle nostre card. Mi dispiace che diciamo questo tutorial non sarà per tutti perché capisco che chi non ce l'ha non utilizzerà questo tutorial, però in realtà chissà che non sia la volta che vi faccio venire la voglia. Io non ho mai parlato nei miei tutorial della silhouette ma in realtà ne la uso tantissimo per le mie card, io in particolare ho la portrait che è la versione A4 e per le cose che faccio io come dimensione è perfetta, non mi sarebbe servita quella più grande e quindi ho scelto di acquistare la portrait. Questo è il suo tappetino apposito il Pixcan ma esiste anche chiaramente 30x30 per chi ha la cameo. Oggi vi farò vedere come utilizzare questo tappetino per fare in particolare due cose. La prima è creare l'offset per le nostre timbrate. Esistono, lo sappiamo, dei kit di timbri e fustelle. Quando non abbiamo le fustelle o quando non esistono fustelle in abbinamento ai nostri timbri, noi possiamo ricavare il ritaglio del contorno grazie proprio a questo tappetino Pixcan. Seconda cosa che vi farò vedere invece sarà come creare con questo tappetino il rubaforma, cioè di fatto partendo da una fustella in nostro possesso noi possiamo andare a crearne il file per poterla così utilizzare in maniera un po' più duttile, più grande, più piccola, fare una modifica magari a una forma che ci piace ma non è perfetta eccetera. Quindi oggi vi faccio vedere queste due cose. Partiamo con l'offset. Per poter fare l'offset noi ovviamente dobbiamo utilizzare una timbrata. Allora la prima operazione che dobbiamo fare è andare a far aderire il nostro timbro che vogliamo tagliare. Ovviamente io vi consiglio di fare questa operazione da colorato perché la macchina rileva meglio, diciamo così, la differenza tra il soggetto è lo sfondo bianco. Quindi andiamo a far aderire perfettamente il nostro disegno al tappetino. Dopodiché scattiamo una fotografia al nostro tappetino in maniera che si veda perfettamente tutti quanti i crocini. In questo caso io ve lo farò vedere in questo modo perché altrimenti non sta nella telecamera. Con il nostro cellulare andiamo ad inquadrare perfettamente la nostra area di taglio. Adesso chiaramente non riesco a farvelo vedere ma vi farò vedere la foto una volta scattata. Ecco qui, spero che riusciate a vederlo. Ecco vedete che ci sta tutta dentro all'area di taglio e non vi preoccupate se non è inquadrata perfettamente dritta perché questa è chiaramente una cosa a cui penserà direttamente la vostra cameo. Per poter fare l'uso di questo Pixcan è necessario fare la calibrazione della macchina fotografica che si utilizza normalmente. Per questo io vi rimando ai tantissimi tutorial che ci sono su YouTube e dovete cercare calibrazione Pixcan e vi spiegheranno, ci sono tantissime ragazze che l'hanno fatto, vi spiegheranno come fare. Noi adesso andiamo al pc e vi faccio vedere come andare a tagliare questo timbro. Allora, eccoci qua. Una volta che voi avrete trasferito la vostra fotografia dal cellulare al computer, non vi rimane che andarla ad aprire da studio. In questo caso dovrete farlo però da qui e non dalla funzione apri normale, ma da questa che è apri immagine Pixcan. Importa immagine Pixcan, eccola qua, andiamo ad aprire e lei ve la caricherà, registrerà automaticamente i crocini e ve la mostrerà al posto del tappetino classico. Adesso ci vuole un po' di tempo, il mio computer poi purtroppo è piuttosto lento per cui vi chiedo qualche attimo di pazienza. Ed eccola, vedete? È perfettamente inquadrata. A questo punto noi dovremo andare a lavorare con lo strumento di traccia e lo faremo da qui, traccia. Seleziona area della traccia e andremo a selezionare la parte d'immagine che ci interessa, in questo caso ovviamente questa. Vedete? Lui in automatico vi rileva la forma. È chiaro che io, che voglio essere tranquilla, vado a ritoccare un pochino la soglia di tolleranza, perché non voglio che ci siano problemi oppure qualcosa di non rilevato. Vedete, se aumentate e aumentate progressivamente tutto il disegno vi diventerà giallo. A questo punto la soglia giusta è quella che vi dà l'immagine completa e non vi dà nessun altro tipo di distrazione intorno, diciamo così. Ora ve lo ingrandisco un pochino e vi faccio vedere. Vedete? Qui noi abbiamo per esempio, lui ha rilevato, delle parti nel mio disegno che in realtà, vi faccio vedere cosa sono, dipendono dalla colorazione. Vedete che io sotto avevo fatto un'ombra perché non avevo ancora deciso se volevo tagliarlo o meno. Ma non è un problema, questo non ci causa nessun tipo di problemi diciamo al momento, perché noi poi andremo a fare un offset e quindi non lo taglieremo perfettamente al bordo, bensì lo andremo a tagliare un pochino oltre la diciamo così il timbro disegnato. Quindi io abbasso ancora un altro pochino la soglia perché vorrei fare sparire questi tipi di diciamo così sfumature che io ho fatto, d'accordo? In questo caso il fatto che ci si scopra la parte interna non ci crea problemi perché andremo a fare un bordo esterno della traccia e vi faccio vedere cosa succede. Facendo solo il bordo esterno se io vado a togliere, vedete? Lui mi ha tracciato anche tutti questi piccoli pezzettini e quindi verranno inclusi, come è giusto, nel nostro disegno. A questo punto noi dovremo andare a creare l'offset. Se voi voleste tagliare solamente il bordo preciso del vostro timbro potreste procedere già in questo momento al taglio. L'unica cosa che dovrete andare a fare ovviamente sarà eliminare tutte le parti che diciamo sono in più rispetto al vostro timbro, che non ha senso che lui vada a tagliare, però noi vogliamo fare come dicevo l'offset perché io voglio lasciare un pochino di tolleranza intorno al timbro e quindi lo andremo a fare da finestra di offset. Dovremo andare a selezionare la nostra traccia di taglio che abbiamo creato prima e andremo a fare offset. Vedete? Lui in automatico vi mette il bordo. Se lo volete un po' più piccolo, un po' più grande, lo andate a cambiare da questo valore. Io lo voglio leggermente più piccolo, io mi sono resa conto che per i miei timbri la cosa migliore in assoluto è stare tra l'1,10 e l'1,50 perché mi rendo conto che è diciamo il bordino che io preferisco. La prima cosa che io andrò a fare sarà togliere la parte interna, quella che era stata diciamo così creata per prima e la toglierò. E adesso siamo pronti per andare ad inviare il nostro taglio alla macchina. Quindi si procede normalmente con la sezione invia e siamo andati anche a posizionare già il nostro tappetino, vedete, pronto nella macchina. Mi raccomando quando usate il Pixcan la registrazione dei crocini fatela sempre a coperchio chiuso perché lei lavora con un led e quindi ha bisogno di buio. Andiamo ad inviare il nostro taglio alla macchina. Ed ecco qui il nostro timbro tagliato, vedete, è perfetto e quindi io ritengo che questa sia una funzione molto molto comoda e molto molto interessante per quello che riguarda questo Pixcan. Vedete come è carino. Ora invece vediamo un'altra funzione che è quella come dicevo prima del rubaforma. Per fare questo rubaforma si procede nello stesso modo e si parte però da una fustellata. Quindi scegliamo una fustellata a caso. Ecco io ho scelto questa. È, vedete, molto grande, abbastanza grande come fustellata. Quindi io ho l'esigenza che la macchina me la tagli più piccola. Quindi cosa faccio? procedo nello stesso modo in cui ho proceduto prima. Scatto la foto e la carico in computer. Abbiamo fatto come prima, no? Abbiamo caricato la nostra immagine Pixcan. Nello stesso modo andiamo a esaminare la nostra area. Ed ecco che diventa giallo. Allora anche qui potete andare a scegliere se aumentare o diminuire la tolleranza a seconda di come vi sembra che sia l'immagine. Se per voi è giusta oppure andate a modificare leggermente. Secondo me così è abbastanza giusta. Quindi io andrò a creare la traccia. In questo caso, a differenza da prima, non faremo bordo esterno della traccia ma la voce normale traccia. A questo punto noi andiamo a selezionare a fare copia e incolla in una pagina vuota. Ed ecco che compare, ve la coloro così forse si vede meglio, che compare la nostra traccia. vedete? Abbiamo già ottenuto di fatto il nostro file. Poi lo andiamo ad adrizzare ad esempio perché in questo caso, visto che non era proprio perfettamente dritto, con una mano sola è un po' complicato effettivamente. Ecco, così l'abbiamo messo dritto. Ora vi faccio vedere un'altra cosa. Se noi andiamo ad ingrandire questa immagine, voi noterete, spero, dal computer, allora aspettate che provo a ingrandirvelo un po' di più, che ci sono, non so se riesco a farvelo vedere, dei piccoli punti di sporco. Quindi cosa facciamo noi in questo caso? Andiamo da selezionato in questo modo, andiamo a rilasciare il tracciato e vedete che compaiono tutte le nostre, diciamo così, parti sporche. A questo punto non ci rimane altro che selezionarle e andarle a pulire. Con un po' di pazienza, ovviamente, vanno tutte pulite. Questo perché comunque non avrebbe senso che il nostro foglio venisse magari rovinato o impresso di cose che non ci servono, diciamo così, no? Quindi, quando voi pensate in qualche modo di aver finito, andrete a ricontrollare sempre nello stesso modo. Quindi farete una selezione e vedete che non sono più evidenziati puntini in nessuna posizione del nostro schermo. Quindi a questo punto noi siamo pronti per andare a riraggruppare tutto quanto ed ecco che il nostro file è pronto. Allora, a questo punto a noi non ci interessa farla così perché avremmo avuto chiaramente la possibilità di usare la fustella. A me interessa cambiare dimensione. Quindi, per esempio, lo vado a fare un pochino più piccolo, per cui tenendo, diciamo così, sempre le proporzioni, a questo punto io decido che il mio lato, per esempio, la mia altezza dovrà essere di, e poi poniamo il caso 8 cm. Andrò a cambiare le dimensioni. Ecco qua. Ecco fatto. E lui, vedete, me l'ha rimpicciolito. Ed eccoci di nuovo. Allora, una volta passata chiaramente in macchina per il taglio, in questo caso avremmo usato chiaramente il tappetino di taglio normale perché non ci occorre il Pixcan. Una volta creata, come avete visto, la nostra forma e salvato il file, procediamo a tagliarlo come tutti gli altri file del programma, ecco, di studio. Vedete che la fustellata madre e il taglio successivo sono perfettamente identici. Quindi questo ci dà modo di utilizzare magari una fustella che ci piace tanto in altre dimensioni, come in questo caso ho fatto io. Spero di esservi stata utile e vi saluto. Ciao ciao! Grazie a tutti!